Questa lapide colloca in questo luogo di storia di Cremona quello che si è attraversato, ponendo insieme, come abbiamo letto nella scritta, il ricordo delle vittime, la sofferenza dei loro familiari, la benegazione di chi negli ospedali si è adoperato per contrattare il virus, salvando molte vite, l'impegno di coloro che, continuando a svolgere le loro attività, hanno permesso che la vita della comunità non si interrompesse. Tutto questo viene raccolto nella lapide con il riferimento conclusivo al senso di comunità che fortemente contrassegna Cremona e la sua provincia. Io vorrei sottolineare che questa mia visita intende esprimere anzitutto solidarietà per le sofferenze patite, ma accanto a questa la fiducia per la ripresa che si è avviata, nella convinzione che la ripresa in questo territorio, contrassegnato da antica tradizione culturale, da grande dinamismo produttivo, contrassegnato anche da questo forte senso di comunità, sarà certamente veloce ed efficace. E questo è l'augurio che insieme al saluto che rivolgo alla città, a tutti i cittadini, desidero consegnare qui in questa piazza.